in compagnia di stefano gross allora stefano anche per te ultime curve della stagione c'è tanta neve ancora qui siamo a fine aprile però dai queste sono curve che fanno bene per la prossima stagione se non è neanche quasi finita la scorsa stagione che abbiamo già iniziato a preparare la prossima però appunto avevamo in mente di provare su queste condizioni un po salate per provare anche bene i materiali quindi sicuramente molto importante siamo riusciti a venire qua allo zoncolan e abbiamo trovato condizioni appunto ottime per per provare raccontaci un po la tua stagione non sei partito bene però dopo un bellissimo acuto a cortina e un crescendo di risultati sì sicuramente era una stagione che mi aspettavo tanto anche perché problemi fisici erano risolti e quindi non sono riuscito a partire come volevo ho perso subito la fiducia in gara soprattutto perché in allenamento stavo sciando veramente forte è stato un peccato perché poi appunto in gara non riusciva ad esprimermi come in allenamento fino quando poi di nuovo appena prima di cortina ho ritrovato le giuste sensazioni purtroppo ho fatto vedere solo per tre quarti di gara quello che sapevo fare anche in allenamento quest'anno è andata così e però sono contento che fino là ho finalmente dimostrato dove posso stare e con chi posso stare lì davanti quindi è stato una fine stagione sicuramente positivo in vista del prossimo kranischi agora con il miglior tempo la seconda manche anche agli italiani assoluti con la vittoria sicuramente mi dà fiducia per la prossima stagione squadra siete tre esperti razzoli manfred e tu e poi stanno arrivando un po i giovani questo è il fatto che siano arrivati giovani come vinazzer ma anche come maurberger fa bene da nuova linfa anche a voi vecchietti perdonami il termine ma di certo di certo perché le sfide si fanno sempre più acute in più anche la sciata innovativa che che portano i giovani ci fa fare degli dei confronti con la nostra e quindi sicuramente una cosa positiva qui sullo zoncolan tra un mese arriverà anche la tappa del giro d'italia tu sei trentino immagino che sei un appassionato di ciclismo sì mi piace molto faccio parecchia bici seguo anche il giro quindi sono abbastanza fanatico e mi piace arriverà qua come arriva spesso anche da noi il giro è sempre anche lì una corsa molto importante per far vedere le nostre bellezze il nostro territorio niente vediamo allora in bocca al lupo ultime sciate domani e poi un piccolo break di vacanza e poi via verso pechino ma di certo speriamo di potere innanzitutto andare in vacanza perché con i problemi che ci sono in questo periodo purtroppo dopo una lunga stagione così anche un po di difficoltà farebbe senz'altro bene staccare un po la spina ma cercheremo di trovare questo questo po di tempo per andare a sbagarci un po e ritornare insomma pronti per la prossima stagione